Vabbè, allora, quindi ieri abbiamo, o poi oggi magari vedrò anche i vostri progetti, parliamo anche un po' insieme, quindi ieri vi ho parlato e vi ho fatto vedere alcuni interventi riguardo a cercare di capire cosa è stato il design, cosa è oggi e cosa potrebbe essere a partire da oggi. Quindi mi pare di aver insistito più volte sull'aspetto culturale di questa attività, che è un'attività commerciale anche, che però richiede una pertinenza dal punto di vista culturale affinché il mercato possa essere, innanzitutto si possa individuare il mercato esistente, ma soprattutto direi individuare il mercato potenzialmente esistente, quindi futuro. Ecco, quindi la questione della maggior parte dei maestri, che non casualmente si chiamano maestri, che vi ho presentato ieri, hanno lavorato con le aziende. Ma prima di lavorare e durante e dopo, ognuno di loro ha creato un universo, diciamo, dei posizionamenti, un po' come nella politica, un po' come in qualsiasi campo, ognuno se vuole far parte di un dibattito deve avere qualcosa da dire, quindi ognuno se la deve creare la propria, quindi non è che ascoltando un Enzo Maeri così bisogna prendere tutto per oro colato, quello è lui, è il suo universo, poi sta a voi giovani e ognuno deve creare poi il proprio percorso, in base alla propria sensibilità, cultura, potenzialità. Infatti ieri vi ho presentato, vi ho fatto vedere alcune cose della storia, alcuni interventi dei maestri e vi ho fatto vedere alcuni miei lavori, che nel mio caso mi sono inventato la mia maniera. Ecco, non è proprio un'attività artistica nel senso stretto del termine, come per gli artisti, però è molto vicina. Ecco, è un'attività, come dicevo ieri, il mondo del design è molto vicino al mercato, ne fa parte, quindi è una qualità e può essere anche un difetto. E la domanda, un po' retorica, ma in ogni modo molto interessante, che ha fatto Andrea Branzi, che è stata la mia ultima frase di ieri, e era quella, non so se qualcuno di voi ci ha pensato, si chiedeva se il design serve all'industria o se l'industria serve al design. Quindi questo è un po' che tutto si svolge. Allora io ora ho un dubbio, se farvi vedere, però dovreste avere la pazienza di guardarlo, dura un po', dura un 16 minuti, magari poi c'è un grandissimo, forse il più grande storico del design che abbiamo in Italia, che è un napoletano, non so se alcuni di voi lo conoscono, che è il professor Renato De Fusco, che è un grandissimo storico, classico, molto bravo, e io ho trovato un suo video che francamente vi farei vedere, perché spiega, per chi di voi non lo sapesse, parla proprio dell'origine del design, cioè quando è nato il design, dove e perché. Il design è nato con la rivoluzione industriale, semplicemente perché prima le persone erano degli autoproduttori, appunto come oggi paradossalmente stiamo tornando, nel senso che i contadini si costruivano i loro oggetti, con il legno, con la terracotta, o il vicino faceva la zappa, l'altro faceva la... Poi quando soprattutto in Inghilterra con la rivoluzione industriale i contadini sono andati in città a lavorare in fabbrica, perché erano pagati meglio, perché erano sicuri di avere lo stipendio, eccetera, poi non c'era più il tempo e neanche la pazienza di farsi, quindi gli oggetti di uso comune sono stati prodotti in serie, quindi c'è un personaggio importante che si chiama William Morris ed è nato lì il discorso della produzione di oggetti d'uso in serie, quindi il design si può datare rispetto all'arte, che è un'attività che esiste dall'epoca del plistocene, no? Che nelle grotte l'uomo rappresentava, disegnava, o la musica anche che esiste nello stesso periodo, la scrittura, la letteratura esiste da... se era un altro da punto di vista orale, o mero, che sia esistito o no, però a la famosa Odissea Eliade, sono una serie di narrazioni che sono state raccolte, non si sa se questo mero sia esistito, pare fosse un vecchio cieco, pare che non sia esistito, non si sa. Comunque per dire che invece il design rispetto a queste altre attività culturali è un bambino, cioè è una cosa che è nata da da 100, 200 anni, quindi rispetto alle altre attività è ancora tutta da da inventare. Quindi io, Andrei, se riesco con questa faccenda del... Vediamo un po'... Sì, riesco, ecco. Allora, Renato De Fusco, dura 17 minuti, però è fantastico. Quindi ascoltatelo con attenzione e poi ne parliamo. Allora, già non c'è più. ho detto che non c'è più grande sul tema del design, una cosa più nuova che si pubblica e che protegge i vecchi appigianati. Intanto cominciamo con il rapporto sulla parola design e sapendo che si è più grande in un'esistenza si appoggiare la parola design per cui il lavoro praticano la parola design a tutto con l'esistenza e di un asensato, con l'esistenza di un film, con l'esistenza di questo, di questo. Da noi invece abbiamo anche il nostro design che il design è quegli oggetti prodotti inizialmente, quindi un campo illuminatamente attualmente a prenderlo. Per noi c'è una tendenza oggi che tenda a prendere questa parola di design anche da noi alla comunicazione, alla parola di civile, per esempio, chi non sono molto d'accordo che il design si possa attivare la parola nuova, meno che mai sono d'accordo quando parlo di design di servizi. Sì, anche tutti, in generale abbiamo tutti una materia, quindi che sono contrari, ma di dire che è anche una comunicazione, perché la gestione di servizi ha un libro che ha chiesto di un maschio di viola, perché è che c'è quello che è avvicinato a tali maschi di viola, però non è che la gente diventa un maschio di viola, e quindi non è che quella di un maschio di viola, perché è un po' di un altro maschio di viola, e quindi ha vestito un po' di un materiale. Quando nasce questo design? Questo design nasce un aiutino industriale, però c'è un chiave che è pieno che è ubicata da 9.3% o da 9.8%, però è molto distrubbile. Quindi faccio la prima idea, il primo filosofico passo a mandare la filosofia, più a volta, la filosofia dei concetti, che è una filosofia orientativa. E' una filosofia che voglue applicare la vita che aspetta il mio stereotipico, per cui una concia totalmente pratica della filosofia. E la prima volta portò a due cose, sul piano politico-culturale, portò all'imperialismo, portò al capitalismo, portò all'industrialismo, eccetera. Quindi il piano materiale è un'induzione di nuovi, che non macchinari. E ci sono macchinari, credo sì che tutto quanto l'ingestenza fosse prodotto a mano, quindi era prodotto da queste macchine, mentre le macchine erano molto costose, c'era una applicazione, c'era una commercializzazione, per cui questa iniziava un'impresa, doveva direttore proprietario di queste macchine, e doveva dire che queste macchine dovevesse essere in un punto utile per recuperare la spesa, dove si fa modificare la spesa in una certa macchina. Questa esigenza di questa mobilia, che significa una soltata, può utilizzarla al massimo per la produzione. Perchè, se una macchina produceva 8 oggetti, evidentemente non era voluto, non diremmo, non ripagava della spesa. Per esempio, in questi punti, questi oggetti riuscivano ad ammortizzare il capitalismo. Per esempio, in questo punto, l'economia, l'impianto dell'impresa, quel esitto che veniva dalla vendita dei colopi, c'è un'impresa, che portò a un privilegio, che porta che i clienti devono essere, che ha fatto un grande, nuovi, colaggregare l'interesse del pubblico, quantità che avrebbero ricappeggiato quello del, che è un costituzionamento dell'organizzazione, l'impresa delle macchine, poi C'è il passo d'enso, che è il passo d'enso. Il passo d'enso è il passo d'enso. Il passo d'enso è il passo d'enso, il passo d'enso da che la voce si qualificasse. Quindi erano i nuovi aprienti, i nuovi aprienti erano le popolazioni che dalla campagna si trasferiva di città e quindi a fare il nostro progetto di umanistrazione, l'efficacia fornata, no? E' stato fatto che qui sia tutta la vita veniva in qualche modo possibilita e quindi anche l'opportunità di un altro progetto di umanistrazione. Questo movimento del territorio, cioè perché trova il suo favorello in Inghilterra, la famiglia buale, iniziale, che era composta da le donne che lavoravano a telaio, e poi iniziava la terra. Quando si scoprì che c'era più un polo dottorio, che famigliamente è sempre giusto lavorare a delle manifatture, e quindi si occupavano anche loro dei lavori femminili e quindi tutta la manifattura si concentrò di vivente abitare più fatti e di vivente in città e che si concentrò di vivente abitare più fatti e ovviamente in città che s'è un'attività di vivente abitare più fatti e di vivente abitare più fatti. e ti costruisci e ti produce un oceano. Tutta lì, questi poccadini, po' potenti, che mi viva da mettere le idee, era poco educato al gusto della moderna della città che provvediva. E allora l'industria vede l'incontro al Mirafò. Vabbè, peccato. Comunque, state seguendo. Ora è un po' lunghino, ma è importante perché poi nessuno parla mai di queste cose che sono proprio l'inizio. Lui è un grandissimo... Anzi, comprate i suoi libri, Renato De Fusco. E che succede adesso? Ci metterà... Cosa devo fare? Pausa. Dov'è? Non la vedo. Eh... E poi? Ma come mai? Non me lo fa mai, perché la connessione è lenta, no? Comunque questo è l'unico video online, poi gli altri li ho registrati. Questo non sono riuscito. Peccato però, non si può entrare. Comunque, sta spiegando appunto come è nato il design. Perché per farlo oggi bisogna sapere, ovviamente, quando è nato, come... Quanto potrà durare questa roba qua? Eh? Un po'? Un po'? Allora... Che facciamo? Andiamo avanti. Eh? Eh? Cosa? Proviamo a fare così, al reggimento della pace. Partire da cento. Come partire da cento? Vediamo se ci viene un aiuto la fortuna. Eh? Eh? Proprio educata... Ah, perfetto. Perfetto. Sì, sì. Benissimo. Certo. Certo. Il moderno della città che lo è. E allora... Cioè... L'industria... Per il primo punto... Allora... Diciamo... Allora... 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 Il moderno della città che lo è. E allora... Cioè... L'industria... Per il primo punto... Allora... Diciamo... Allora... 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 Beh... Vabbè... Vabbè... E non lo so che... Vabbè... Rinunciamo... Che facciamo? Peccato. Va bene... Andiamo su altre cose... Allora... Lo sto lasciando... Vabbè... Eh... Dunque... Va... Sì... Io c'ho un Mac... E tutto un altro mondo... Un problema in mia rete... Eh... È la connessione... Certo... Eh... Eh... Vabbè... Vabbè... Allora... Vabbè... Parliamo di... Ora... Saltiamo di palo in frase... Peccato... Perché questo era... Un discorso che andava sentito nella sua interezza... Allora... Vediamo... Vabbè... Vabbè... Ora andiamo su... Come dicevo ieri... Io faccio parte... Di un'associazione che si chiama Milano Makers... Eh... Quindi... Eh... Però anche questo è in rete... Mannaggia... Vabbè... Proviamo bene... Speriamo bene... Allora... Questo è... La presentazione... Poi... Ne parliamo... Questo è... L'attualità... Diciamo così... E dell'anno scorso... No... Non ci credo... Abbiamo detto... Il primo fatto... In italiano... E... La presentazione... Perciò... E... No... No... Questo è... Nel prossimo... No... Siamo... No... 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 E' una situazione qui. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 l'intuizione. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. vedete. a tutti. 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 a 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 tutti. un terzo. a tutti. ecco. a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 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 . tutti. 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 . tutti. . 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